Ome rimedi per la sindrome del tunnel carpale. La sindrome del tunnel carpale, CTS, è una condizione che colpisce le mani e le braccia che provoca sensazioni di formicolio e intorpidimento nella fase iniziale. Come si procede a fasi avanzate, può portare a forti dolori e debolezza nelle mani e persino causare danni ai nervi. CTS può verificarsi in uno o entrambe le mani ed è generalmente più comune nelle donne rispetto agli uomini. La causa della maggior parte dei casi di CTS sono sconosciuti, ma di solito è dovuto alla eccessiva pressione sul nervo mediano che viaggia attraverso il polso al tunnel carpale. Un certo numero di fattori che possono contribuire a CTS, quali l'anatomia del polso, uso ripetitivo del polso, una ferita, fattori di lavoro e carenze nutrizionali. Alcune condizioni mediche possono anche aumentare il rischio di una persona. Tali condizioni mediche includono diabete, disfunzioni della tiroide, ritenzione idrica, ipertensione, l'obesità, la gravidanza, l'insufficienza renale, la menopausa e le malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide. Fase avanzata di questa condizione possono richiedere cure mediche. Tuttavia, i rimedi domestici possono ridurre i sintomi e contribuire a ripristinare il polso e la funzione della mano nei casi lievi di CTS. Qui ci sono alcuni rimedi casalinghi per la sindrome del tunnel carpale. Freddo compress. Per sollievo temporaneo e veloce da infiammazione e intorpidimento causata da CTS, è possibile utilizzare un impacco freddo. La temperatura fredda contribuirà ad alleviare il dolore da intorpidire la zona interessata. Si riduce anche il gonfiore e l'infiammazione. Mettere alcuni cubetti di ghiaccio in una plastica, sacchetto sigillato. Avvolgere la borsa in un asciugamano e applicare sulla zona interessata. Lasciare in posa per circa 10 minuti. Ripetere ogni ora o così, a seconda delle necessità. Nota, non applicare mai il ghiaccio direttamente sulla pelle. Massaggi e terapie. Massaggiare le mani e polsi è un altro modo efficace per alleviare alcuni sintomi di CTS. Sarà attivare i punti di pressione sulle mani, che a sua volta aumentare l'offerta di sangue, rilassare i muscoli rigidi, migliorare la mobilità e ridurre il dolore. Strofinare alcune di cocco caldo o olio di oliva sulle mani e polsi. Massaggiare le braccia, polsi, mani e le dita con movimenti delicati per 10 a 15 minuti. Fare questo due o tre volte al giorno fino a quando si nota un miglioramento nella vostra condizione. È possibile ottenere aiuto da un massaggiatore, anche. Nota, non massaggiare se le articolazioni si sentono troppo tenero o doloroso. Sale di Epsom. Sale e Epsom è un rilassante muscolare naturale e antinfiammatori per il suo contenuto di magnesio. Si può rilassare in modo efficace i muscoli stretti nelle vostre mani e polsi. Mescolare 1-2 a 1 tazza di sale e Epsom in una vasca profonda con acqua calda. Immergere le mani e polsi in esso per circa 15 a 20 minuti. Utilizzare questo rimedio due o tre volte a settimana fino ad ottenere sollievo dal dolore e rigidità. Olio di ricino. L'olio di ricino è un altro buon rimedio per il trattamento di CTS. Può aiutare a ridurre l'infiammazione, sopprimere il dolore e ripristinare il normale funzionamento nei polsi. Scaldare un po' di olio di ricino e applicarlo sulle mani e le dita. Massaggiare i polsi, i pollici, le dita e il dors delle mani per 10 a 15 minuti. Avvolgere le mani in flanella e lasciarlo acceso per un'ora. Fate questo una volta al giorno per una settimana o fino a quando non vi è un miglioramento. Digitopressione e agopuntura. Digitopressione e la terapia di agopuntura possono anche aiutare nel trattamento naturale della sindrome del tunnel carpale. Essa aiuta a ripristinare il normale funzionamento dei nervi e fornisce sollievo dal dolore. In realtà, è una buona opzione per coloro che vogliono evitare l'intervento chirurgico precoce. Terapia di agopuntura per essere utile nel ridurre i sintomi della CTS. Ci sono specifici acopunti sul polso e gomiti, ad esempio, il pericardio 6 o PC6, che è possibile premere delicatamente per alcuni secondi con il pollice e l'indice per promuovere il flusso di energia e ripristinare la gamma di movimento. Esercizi di stretching. È bene afflettere, ruotare e allungare le mani, polsi e braccia più volte al giorno quando si soffre di CTS. Questo aiuta a aumentare la circolazione sanguigna e può anche alleviare alcuni dei sintomi. Esercizi di stretching sono facili da fare e può essere fatto mentre era seduto alla scrivania, in attesa in linea o ogni volta che avete qualche minuto di anticipo. Fare un pugno, togliere la mano e scuotere le dita. Ripetere 5 a 10 volte. Metti le mani in posizione di preghiera. Allargare le dita e tenere le punte che toccano le dita della mano opposta, mentre si aprono e si chiudono i palmi delle mani. Fate questo per 5 a 10 minuti. Agitare le mani come se si sta cercando di arrasciugarle per 5 minuti alla volta. Chiedi al tuo medico di più esercizi di stretching che possono aumentare la circolazione, il movimento e la mobilità dei polsi e le mani. Blackstrat melassa. Melassa è una buona fonte di magnesio, che aiuta il rilassamento muscolare. I nutrienti come il ferro, vitamine del gruppo B, calcio e potassio in essa anche aiutare a mantenere un buon flusso di sangue in tutto il corpo, comprese le mani. Mescolare uno o due cucchiai di melassa in una tazza di latte caldo. Bere una o due volte al giorno fino a quando si nota un miglioramento nella vostra condizione. Olio di semi di lino. Olio di semi di lino, noto anche come olio di lino, può aiutare ad alleviare il dolore e gonfiore a CTS, principalmente a causa della sua analgesici, anti-infiammatori e antiossidanti. Estremamente ricco di acidi grassi omega 3, che riducono l'infiammazione. Olio di lino è efficace nella gestione del CTS lieve e moderata. Aiuta a migliorare la gravità dei sintomi e lo stato funzionale. Aceto di mele. Un altro rimedio domestico efficace è l'aceto di sidro di mele, che aiuta a ridurre l'infiammazione e il dolore, due comuni sintomi di CTS. Inoltre, è ricco di minerali come magnesio, calcio, potassio e fosforo, che sono essenziali per i muscoli e le ossa forti. Aggiungere uno cucchiaio di aceto di sidro di mele non filtrato prima e un po' di miele biologico ad un bicchiere di acqua tiepida. Bere due volte al giorno. Inoltre, mescolare quantità uguali di, aceto di mele non filtrato crudo e olio d'oliva. Usalo per massaggiare e colpite zona due o tre volte al giorno fino a quando si nota un miglioramento nella vostra condizione. Vitamina B6. Vitamina B6 come parte di trattamenti complementari di rinviare chirurgia della mano a chi soffre di CTS. Come la vitamina B6 svolge un ruolo chiave nella sintesi dei neurotrasmettitori e metabolismo degli aminoacidi, è essenziale includere più vitamina B6 alimenti ricchi nella vostra dieta. Alcuni alimenti ricchi di vitamina B6 sono crusca, pistacchi, salmone, tonno, semi di sesamo, semi di girasole, nocciole, aglio crudo, farina d'avena, germe di grano e riso integrale. Si può anche prendere integratori di vitamina B6, da 50 a 100 mg due volte al giorno, dopo aver consultato il medico. Ulteriori suggerimenti. Mangiare cibi ricchi di antiossidanti come mirtilli, ciliegie, pomodori, zucca e peperoni. Includere la curcuma nella vostra dieta. Si può anche prendere in forma di supplemento, 300 mg tre volte al giorno. Usare oli sani, come l'olio d'oliva per la cottura o frittura. Evitare di carni rosse. Mangiare carni più magre e pesci di acqua fredda. Indossare un tutore al polso durante la notte, ma assicurarsi che non è molto stretto. Quando si digita o si utilizza un mouse per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di utilizzare un pad polso. Tenere le braccia elevati durante il sonno. Evitare di dormire sulle mani. Smettere di fumare in quanto favorisce il blocco dei vasi sanguigni stretti e peggiora i sintomi. Fare delle pause regolari dal lavoro che include i movimenti della mano faticosi o ripetitive, come ad esempio facendo clic su un mouse. Fermare le attività che possono causare intorpidimento e dolore. Fare esercizi di yoga che sono progettati per allungare e rinforzare le articolazioni nella parte superiore del corpo. Migliorare la postura per ridurre il rischio di CTS. Mantenere le mani calde indossando i guanti, soprattutto nelle fredde giornate invernali.